Ciao a tutti ragazzi, in questa nuova guida all'acquisto parliamo di materassini da trekking. Vedremo i materiali, come sono fatti, cos'è l'air value e soprattutto cercherò di aiutarvi a capire quale sia il migliore materassino da comprare per le vostre esigenze. Ma visto che c'è tantissimo da dire direi di iniziare subito col video. Iniziamo subito parlando dei tre tipi di materassini da trekking che troviamo più in commercio. I materassini in schiuma, i materassini gonfiabili e i materassini autogonfianti. Iniziamo dai materassini in schiuma, questi sono abbastanza famosi, materassini da palestra, yoga, un po' chiamateli come volete. Quali sono i pro di questi materassini? Il primo pro è sicuramente la leggerezza, pensate che un materassino del genere può pesare anche solo 200 grammi. Sono anche molto economici, cioè un materassino del genere quanto costa di solito, 15-20 euro esagerare, quindi sono abbastanza economici. Sono anche materassini resistenti perché se li rompete in qualche parte potrete andare avanti a utilizzarli. Comunque in generale è anche abbastanza difficile romperli. E poi comunque hanno un buon rapporto peso-air value, perché pensate che di solito un materassino del genere ha un air value tra i 2 e i 2,5. Quali sono i suoi contro invece? Beh, sicuramente è ingombrante, cioè sono veramente grossi, se dobbiamo metterli anche all'esterno dello zaino ingombrano tantissimo e non è così semplice trasportarli. Ma soprattutto il difetto numero uno è che sono veramente poco confortevoli. Se avete provato a usarli in natura per dormirci diverse notti, sapete veramente quanto sono poco adeguati questi materassini per quanto riguarda la vita outdoor. Ma in che caso ha senso acquistare un materassino del genere? A mio modesto parere, mai. Mai, neanche se dovete dormire in delle camerate. Questi veramente, personalmente, ve li sconsiglio tantissimo. Possono aver senso in abbinata magari a un altro materassino per aumentarne nel value. Ma di questo però ne parliamo più avanti nel video. I secondi materassini che vediamo sono quelli gonfiabili. Qui la parola già dice tutto su questo tipo di materassino, ovvero dovremo essere noi a gonfiarli. E principalmente si hanno due modi. O gonfiarli a bocca, davvero molto semplicemente. Oppure negli ultimi anni i produttori stanno facendo una sacca, molte volte inclusa già all'interno della confezione, con quale poter andare a riempirli senza dover rimettere noi l'aria a bocca. Ma quali sono i pregi di questi materassini? Quindi sicuramente anche qua il loro peso. Hanno un peso di solito che si aggira tra i 400 e gli 800 grammi, quindi non sforiamo il chilo. Che non è per nulla male. Sicuramente hanno anche un ingombro ridotto. Cioè, pensate che questo addirittura è grosso quanto una borraccia. Quindi sono veramente abbastanza piccoli. E soprattutto il pregio numero uno è che sono veramente molto molto comodi. Se non li gonfiamo completamente, questo tipo di materassino ad aria va a prendere completamente le forme del nostro corpo. E non dico sia come dormire su un materasso di casa, ma ci si avvicina parecchio. Il contro numero uno di questi materassini è che se li bucate praticamente siete quasi costretti a interrompere il vostro trekking. Si possono utilizzare delle toppe per andare a riparare il foro, però anche trovare il foro alle volte è davvero difficile. Il secondo difetto è che molte volte dovendoli gonfiare a bocca è un po' una scocciatura. Soprattutto poi, se li gonfiamo a bocca, intendiamo a immettere molta condensa all'interno del materassino. E quindi possiamo andare a perdere un po' del suo valore isolante. Quindi diciamo che personalmente vi consiglio magari di andare un pochino di più su quelli che hanno all'interno della confezione una sacca per gonfiarli. Il terzo difetto è che possono avere anche dei prezzi altissimi. Alcuni materassini vanno anche oltre i 400 euro. Questo da cosa dipende? Innanzitutto dal valore R e poi dal peso. Più alto il valore R, meno scende il peso, più sarà alto il prezzo. Dovremmo essere noi a trovare il giusto compromesso tra questi tre fattori. In che caso vi consiglio di acquistare i materassini gonfiabili? Quindi diciamo un po' tutti i casi. Se dovete fare dei cammini, se dovete fare dei trekking, soprattutto magari delle alte vie, quindi dei trekking in cui dobbiamo portarci tutto il materiale all'interno dello zaino, in cui il peso e le dimensioni contano. Diciamo un po' tutti. Poi qua dipende molto anche il valore R che andate a scegliere del vostro materassino. Terza categoria, i materassini autogonfianti. Anche qua la parola fa da sé su un materassino che quando noi apriamo le valvole tende ad entrare da sola all'aria e a gonfiarsi. Attenzione però, non sono autoconfianti al 100%. Di solito entra tra il 50 e il 60% l'aria. Diciamo che una volta che l'aria è entrata tutta, se ci diamo due pompate a bocca, sicuramente è molto meglio per quanto riguarda l'isolamento e il gonfiare completamente il materassino. Il pregio numero uno è che di solito questi hanno un alto valore R. Quindi magari a parità di prezzo rispetto a un materassino gonfiabile a bocca, questi tendenzialmente hanno un valore R maggiore. Il secondo pregio è che comunque ci si dorme bene, o meglio, dipende un po' come siamo abituati. Se sui materassini gonfiabili tendenzialmente si ha un materassino un pochino più morbido, in questo caso si tende ad avere un materassino un pochino più duro. Quindi dipende un po' quale vi piace a voi. Il terzo pregio è sicuramente che è facile da gonfiare, perché come vi dicevo si gonfiano da soli e comunque se proprio dobbiamo immettere dell'aria bastano giusto due soffiate. E infine l'ultimo loro pregio è che non sono molto delicati, cioè diciamo che se si dovessero un po' rompere, dovessimo un po' maltrattarli, sicuramente è meno difficile che si rompano rispetto a dei massenerassini gonfiabili. Per quanto riguarda i difetti invece, beh, come vedete hanno dei volumi abbastanza importanti. Alcuni davvero possono diventare grossi anche più della tenda stessa che potreste portarvi dietro, quindi questo può essere un grosso problema. Ma in quale caso vi consiglio di acquistare un materassino autogonfiante? Diciamo che secondo me l'utilizzo principale di questo tipo di materassino è per il bivacco singolo e in caso faccia abbastanza freddo. Ma visto che ve ne ho parlato tanto fino adesso, vi spiego cos'è questo valore R. È un valore che viene dato ai materassini per indicare quanto è il loro valore isolante, quindi quanto ci isolano dal terreno. Si parte da un valore minimo di 1 e si può salire quanto si vuole. Massimo io in commercio ho visto dei materassini con valore R di 8. Ma facendo un attimo una scala, diciamo che i materassini che hanno un valore R di 1 vanno bene per una temperatura superiore ai 10 gradi. Quindi tendenzialmente io ve li consiglio solamente se dovete andare a fare magari qualche cammino e dormire all'interno di qualche struttura dove avete bisogno di un materassino per dormire per terra. Solo in quei casi. Un valore R tra 1 e 2 corrisponde a un materassino con una temperatura di comfort dai 10 ai 5 gradi. Quindi diciamo un materassino prettamente estivo. Un materassino trekking a utilizzare a queste temperature soprattutto d'estate. Scendendo ancora, valore R tra i 2 e i 3 ha una temperatura di comfort dagli 5 agli 0. Quindi tendenzialmente un materassino diciamo 3 stagioni in cui possiamo utilizzarlo anche durante la primavera e anche durante l'autunno. Ma scendendo ancora di più dai 3 ai 4 troviamo un materassino con una temperatura di comfort dagli 0 ai meno 7 gradi più o meno. Quindi diciamo un 3 stagioni limite in cui possiamo andare proprio anche verso l'inizio dell'inverno e la fine dell'inverno. O comunque magari anche in situazioni estive, magari d'alta quota dove possiamo trovare delle temperature che di notte possono ancora scendere sotto lo 0. Materassino invece con air value dai 4 ai 5, diciamo dai meno 8 ai meno 15, meno 16. Quindi sicuramente un materassino 4 stagioni di cui io poi personalmente vi consiglio utilizzarlo solamente d'inverno. Perché tendenzialmente i materassini così grossi ha poco senso utilizzarli d'estate più per l'inverno. Poi dall'air value 5, 6, 7 eccetera la temperatura va a scendere e arriviamo anche fino ai meno 40. E in questo caso qua parliamo praticamente di spedizioni artiche sugli 8000. Vabbè in quel caso lì penso che sappiate anche un po' gestirvi da soli e scegliere il miglior materassino in base a dove dovete andare a farvi la vostra avventura. Infine parliamo della forma dei materassini. Tendenzialmente troviamo due forme. Forma sagomata o forma rettangolare. Il pregi difetti è semplicemente che di solito la forma sagomata, dato che c'è meno materiale, tende a pesare un pochino meno rispetto allo stesso materassino ma rettangolare. Poi si dorme bene su entrambi. C'è da dire che sul sagomato magari è più semplice scivolare fuori dal materassino. Sul rettangolare invece c'è un pochino più di libertà di movimento. Se volete andare su qualcosa di molto leggero sicuramente il sagomato può aiutarvi molto. Infine parlando di air value, visto che ve lo accennavo all'inizio video, vi ricordo che noi possiamo aumentare l'air value utilizzando dei materassini in schiuma. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Questo materassino che ho qua è un materassino di Decathlon, il Trek 700 con valore R di 3,3. Se io dovesse andare a una temperatura molto bassa, quindi dove questo materassino magari non arriva perché ho voglia di farmi un'escursione invernale, posso portarmi dietro all'occasione un materassino in schiuma. Dormendo con sotto il materassino in schiuma e sopra il materassino gonfiabile andremmo a sommare i valori R. Quindi mettiamo un caso di 2, 2,5 più 3, 3,3, arriveremo ad avere un valore R finale attorno ai 6, quindi sicuramente utilizzabile a temperature molto più basse. Questo può essere un piccolo escamotage se magari fate principalmente trekking estivo. Una volta volete fare un bivacco invernale e non volete spendere ulteriori soldi per prendervi un altro materassino con air value maggiore. Arriviamo infine alla parte dei miei consigli personali. Dopo tanti anni che utilizzo i materassini mi sono fatto un po' un'idea e adesso ve le dico. Tendenzialmente tutto il mercato dei materassini si sta spostando sui materassini gonfiabili. È qua che le aziende stanno investendo la maggior parte dei soldi, anche perché è quello che personalmente io vi consiglio di più. Non solo perché sono quelli più tecnologicamente avanzati, ma anche perché davvero per quanto riguarda peso, ingombro e anche prezzo, secondo me sono il miglior rapporto da avere all'interno dello zaino. Vi sconsiglio completamente quelli in schiuma, quelli gonfiabili ve li consiglio diciamo se non dovete trasportarli. Quindi se avete qualcuno che li trasporta per voi o se proprio volete utilizzarlo per andare a delle temperature molto molto basse una volta ogni tanto. Questo tendenzialmente. Esistono poi anche delle taglie, molti produttori le fanno con le taglie. Naturalmente vi consiglio di prendere la vostra taglia perché se volete risparmiare qualche grammo ben venga sempre. La cosa che davvero vi sconsiglio tantissimo di fare, cioè davvero io la considero una cosa assurda, è quello di prendere sempre la taglia più piccola possibile, anche se noi siamo più alti rispetto alle dedicazioni della taglia, e poi magari mettere il nostro zaino in fondo ai piedi e lasciare magari che sbuchi fuori dal metersino la parte dal ginocchio in giù lasciandola sopra al nostro zaino. Io personalmente ve lo sconsiglio perché ci si dorme veramente veramente male e a questo punto mi pongo una domanda. Ha veramente senso dormire male la notte, quindi magari il giorno dopo svegliarsi che non si è ben riposati, bisogna affrontare una lunga tappa solo per risparmiare una cinquantina di grammi e magari una decina di euro? Non lo so, fate voi i vostri ragionamenti? A mio parere no. Detto ciò ragazzi, io nella speranza di avervi aiutato ad acquistare il vostro prossimo materassino da trekking, Vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!